Così si è presentato padre Tom Uzzinanil dopo il sequestro in Yemen durato 18 mesi. 30 chili in meno e psicologicamente molto provato. Il missionario salisiano è scoppiato a piangere ricordando le quattro missionarie della carità e i 12 anziani assassinati durante il suo sequestro. Dopo aver ringraziato Dio, il mio pensiero va subito alle missionarie della carità. E mi è più sentita condoglianza. Il sacerdote afferma che non subiva trattamenti da parte dei suoi sequestratori. Non è riuscito a capire a quale gruppo di terroristi appartenessero o se effettivamente ne appartenevano a uno. Racconta che trascorreva i suoi giorni pregando, ringraziando Dio per ogni nuovo giorno che li concedeva. Ringrazio il Signore per ogni nuovo giorno e pregavo. Ieri è passato, il domani è incerto. Dammi la possibilità di vivere bene questo giorno. Pregavo prima di andare a dormire o quando arrivava la notte e tutti dormivano. Rendevo grazie a Dio per il giorno che doveva arrivare e per quello che stava trascorrendo. Questo mi riempiva di pace. Appena liberato, il sacerdote è stato trasferito a Roma, dove ha partecipato ad un incontro che mai potrà scordare, quello con Papa Francesco. Mai prima d'ora ho incontrato il Santo Padre. Il Papa è il vicario di Cristo e in questo incontro mi ha baciato le mani. Non ne sono degno. Vi sono profondamente grato per la sua benedizione. Sono sicuro che abbia passato molto tempo a pregare per me. Padre Tom rimarrà in Vaticano finché non avrà ricevuto tutte le cure mediche di cui necessita. Non appena si ristabilirà farà ritorno nella sua diocesi in India.